Come ci regoliamo con Nolan? Ha parlato ancora meno di lui. Fa quasi scena muta. Sono in guerra col mondo, questo è certo. Crede ciecamente in Makarov. A Makarov serve. Lo contatta di continuo, sa che c'è qualcosa che non va. Li hai intercettati? Affermativo. Nolan non parla, ma la sua radio e il suo telefono invece sì. Che sappiamo? Consegneranno qualcuno o qualcosa in un centro di detenzione sovietico abbandonato. Dove? Siberia. Quando? Domani. Possiamo prendere Makarov? Non è detto che ci sarà. Sono pronto a rischiare. Ne ero certa. Nick sarà il vostro autista. Voglio tutta la squadra, inclusa Pharah, insieme a Ghost e il nostro miglior cecchino. La prenderete lungo la strada, l'avviso. Servonoci quattro e dei vestiti. Ci bagneremo. Così come Makarov. Watcher a 07, rapporto. 07 in posizione con Kilo. Bravo è in acqua. Ricevuto. Dove sono gli ospiti? Convoglio in arrivo da sud-est. Quattro veicoli. Grazie di Makarov. Nessuno conferma. Puntiamo al terzo veicolo. Ghost è bravo. Mi ricevete. 27, roti non si sa mai. 24, roti non si sa mai e i lassi. Buongior attacchi. Suove. Affermativo. Arrivano. Corro alle porte. Corro alle porte. Non è Makarov. Solo un prigioniero. Tiriamolo fuori. Sì. Prigioniero preso. Torno in superficie. In attesa. Sei a Watcher? Niente Makarov. Non era nel convoglio. Il prigioniero è in sicurezza. Identità? Aspetta. Non posso crederci. Mactavish. Che cazzo. Capitano. Marta. Possibile che sei coinvolto anche in questo casino. Ghost, lo vedi anche tu? Affermativo. Uccidiamolo e andiamo. Sei chi avete lì? È il fottuto capo Goldeagle. Shepard? In carne e ossa. Porca troia. Siamo un bersaglio facile qui. Allora portiamolo via. Che ci fai qui? Ci danno la caccia, John. E hanno trovato prima me. Cosa gli hai dato per salvarti? Un cazzo di niente. Stronzate. Io sono un generale a quattro stelle. E ti hanno lasciato vivere? Ributtiamo questa meta nel lago. Sono il prossimo bersaglio di Makarov. Tu non sapevi neanche di essere un bersaglio. Ma voi stavate girando a vuoto prima che spuntassi io. Dicci tutto allora. Prima mi tirate fuori di qui. Attenzione, elicottero in arrivo da nord. Dieci chilometri. Roger. Che si fa, bravo? Le informazioni erano buone. Anche se mente può servirci. Se muore non avremo niente. Ghost, Pharah, all'estrazione. Ok. Watcher, siamo uno in più. Così va meglio. Ora, potrei avere una giacca e un'arma. No. Diamogli l'arma. Può servirci. Una pistola con mirino termico. Resta con gas. Non fare scherzi. O ti pianto un proiettile in testa. Sei a Watcher? In ascolto, bravo. Il piano è usare il trasporto per raggiungere il punto d'estrazione. Credo che il vostro ospite potrebbe rallentarvi. Guardatevi le spalle. Chiudo. Sta scendendo la libbia. Momento perfetto per il mirino termico, sei? Uso il mirino termico. Sto morendo di freddo. Con una leggera ipotermia si sopravvive. Ti servirebbe un po' di disciplina, sergiante. Io non lo provocherei, generale. Finirebbe male. L'elicottero di Connie ha scaricato qualche nemico. Vedo le loro tracce termiche. Ore 11. Nemici a terra. Forse ce ne sono altri più avanti. Ricordi come si spara, generale? E tu, invece? Lo ricordi? Assicurati di mirare dritto. Ciò che sto facendo. La stiamo aspettando, capitano. Dobbiamo raggiungere il trasporto e muoverci. Quanto manca al trasporto? Cecchino! Al riparo! Sta sparando dagli alberi di fronte! Qualcuno lo vede? Negativo. Niente sui visori termici. Mimetizzazione termica. Gas controlla Shepard. Io penso al cecchino con soap. Ricevuto. Con me, generale. Movimenti, sergente? Negativo. Sto cercando. Il cecchino nemico si sposta! Quel bastardo si nasconde. Occhi aperti. È qui da qualche parte. Vicino. Il cecchino è vicino. Quanto manca al trasporto? Cecchino! Al riparo! Sta sparando dagli alberi di fronte! Niente sui visori termici. Mimetizzazione termica. Gas controlla Shepard. Io penso al cecchino con soap. Ricevuto. Con me, generale. Quel bastardo si... ...suale sul cecchino. Cecchino a terra, via libera. Ben fatto, capitano. Raggiungimi, Gas. Roger. Che gran casino. Spero che quelle informazioni siano buone, generale. Le mie informazioni sono sempre buone, so... ...ve le darò quando mi avrete portato via. Vedo il mezzo più avanti. A quanto pare abbiamo degli ammiratori. Affermativo. Una squadra d'assalto. Ci hanno visti? Fuoco! Quei cecchini sono andati da fuori. Convidiamoci. Generale, tu con me. Tieni la testa giù. Trocca l'uscita. Vediamoci alla segherina. Tagliate a piedi per l'altura oltre il campo. Checchino sull'altura. Checchino sull'altura. I cecchini possono essere ovunque. Occhio! Un cecchino tra gli alberi. Capitano, riparati! Sono ancora là fuori, nascosti. Un cecchino è sdraiato. Un cecchino è sdraiato. Secchino dietro l'albero caduto. Tiratore neutralizzato. Un cecchino si ripara dietro i macchinari. Bel colpo. Nel retta uno. Il motore è fottuto. Dentro ci sono scorte ancora utilizzabili. Libero, tutti sistemati. Ottimo lavoro. Il mezzo è pieno di armi e attrezzatura. Roba utile. Hai ancora le gambe, no? Farage aspetta. Andiamo. La segheria è più avanti lungo il fiume. Soppa ghost. Siamo a qualche minuto di distanza. Ricevuto. Zona d'atterraggio sicura. Vi tengo aggiornati. Chiudo. Munizioni scarse. Sentito. Venivano dalla segheria. Farah è laggiù. Rispondi, Kilo. Fattuglie di coni intorno alla segheria. Uniamoci alla festa, capitano. Farah, com'è la situazione? Mi sparano dal lato opposto della segheria. Mi serve supporto. Ricevuto. Resta in posizione, Kilo. Ci sposteremo sul fianco. Capito. Di là è pericoloso. Scendiamo per il marchio. Bravo. A Farah serve supporto. Sbrighiamoci. Ci sono coni ovunque. Farah ha la tua posizione. Sul setto. Continuata da valsare. Io ti copro da qui. Gas. Mesti a riparo con Shepard. Sob, con me. Sì. Bravo, Dattar. Speritessi. In guardia. I bersagli non mancano. Affermativo. No. Speritessi. Il loro è riman spouse. Non primo bćmi. Er. No. C'è la necessità. Di là di tutti i riepi. Speritessi. Speritessi. Speritessi di取 organisednici. Speritessi di bananas. Speritessi. Speritessi di behavioral. Speritessi diажito. Sagitt力. Capitano, ci sono due cecchini al primo piano del magazzino Cecchini nel magazzino, capitano, al piano di sopra In guardia, qui i bersagni non mancano Capitano, ci sono due cecchini al primo piano del magazzino Ricevuto, me ne ho qua Tiro una granata Abbiamo un veicolo in arrivo Ha ricevuto, lo vedo, stanno arrivando altri conni Mi ha ucciso Pagno 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 Attenzione, rinforzi nemici in arrivo con gli elicotteri Ricevuto, in posizione Liberi di ingaggiare qualsiasi minaccia Ok, che vengano pure I coni ti hanno dato rogne, eh Ghost? Oggi non aspettavo visite Movimento più avanti È un imboscato Non so se siamo in via con gli elicotteri Ben detto, Gaz Farah e Soap, a sinistra Gaz, tu a destra con Shepard Andiamo, generale Inizia a nevicare Ci sono crepe nel ghiaccio Nuotando là sotto non ci vedranno Possiamo coglierli di sorpresa Qualcuno gli chiuda la bocca Tutti pronti? Shh Generale Prendi la mira e spara quando è il momento Fuoco! Altri soldatoni in arrivo Nascondiamoci nella nepe homosexual Prendi la macchetta E' successo La testa Ma dovrebbe ripartire Attenzione, veicolo che si vuole. Poi sono a vedersi attraverso la neve. Fruttiamo la cosa. Oh, lo stesso io. Fuoco nemico al porto! R.P.G. eliminati. R.P.G. 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 Ghost, stiamo arrivando. Marco il punto vicino all'imbarcazione. Raggiungetelo. Nemici nell'aria. Visuale confermata, tenente. Quasi al punto d'estrazione. Davanti, se. No! Tutto libero Watcher 1, bravo 6 Come siete messi, John? Siamo alla meta Dobbiamo resistere fino all'arrivo dell'elicottero di Nick Prepararsi So già che ne arriveranno altri Rinforzi di Connie in arrivo Veicoli di Connie in arrivo Che hanno scagliato, sto su un'intera compagnia Intensificare l'attacco Liberiamo l'area per l'estrazione Occhio ai bianchi Bravo, sinistra Rinforzi di Connie in arrivo Veicoli di Connie in arrivo Ci hanno scagliato, sto su un'intera compagnia Intensificare l'attacco Liberiamo l'area per l'estrazione Le fronte ongo Danci Alla Autri veicoli di Connie in arrivo. Oh bravo via libera libero Nick tempo all'arrivo 30 secondi e sono giù zona libera ricevuto in avvicinamento capitano attrazione pronta capitano ci siamo tutti? si, forza giuria ricevuto, buon viaggio qui che significa? senza i tuoi gradi sembra proprio uno stronzo ghiacciato generale il meglio del meglio siete tutti qui si, mancavi soltanto tu e a che cosa devo questa simpatica rimpatriata? a una scelta e ne ho una? no vi ascolto confesso ci devi dire tutto sapete già tutto ma non il congresso ma non il congresso e credo che lo ascolterebbero o no? tutto qui? no dovrai scagionarmi dire loro chi sono che cosa mi hai dato e perché lo hai fatto nessun altro ha avuto le palle di fare ciò che ho fatto per te per tutti voi allora fa la cosa giusta tutto ciò che sai su Makarov è il tuo amico Graves al guinzalio accetta e torni al caldo oh resti un po' qui e un po' ricongelato io preferisco la seconda se si tiene un prigioniero concentrato soltanto sulla sua sopravvivenza presto o tardi cederà ora ricordi il tuo addestramento eh? generale se stavolta mi fotti John sappi che rimpiangerai di non avermi ucciso guarda